Rinviato a giudizio il dirigente regionale Michelangelo Trebastoni ed altre 10 persone nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Siracusa e della Guardia di Finanza su presunti casi di corruzione all'Ispettorato del Lavoro di Siracusa. La prima udienza del processo, che si celebrerà con il rito ordinario, si terrà il 19 maggio del 2025. Secondo l'inchiesta, culminata nel dicembre del 2022 con l'arresto di Trebastoni, all'epoca direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Siracusa e Alberto Lupo, indicato dai magistrati intermediari di Trebastoni, sarebbe stata condizionata la pianificazione e l'esito delle attività ispettive in favore di diversi soggetti economici. Tra gli episodi emersi e contestati dalla Procura, la convocazione da parte del dirigente regionale di un socio di una nota scuola di lingua estere per ottenere un trattamento di favore e un'assistenza dedicata in vista dell'iscrizione del figlio a un corso d'inglese, Non avendo ricevuto un feedback positivo da parte dell'imprenditore, il direttore avrebbe disposto nei giorni successivi l'avvio di un accertamento ispettivo. Non luogo a procedere, invece, per il consulente del lavoro Giuseppe Barbera e per l'imprenditore Michele Donato, rappresentante legale dell'Istituto di Vigilanza KGB Security, perché il fatto non sussiste. Secondo l'ipotesi investigativa, il consulente del lavoro e l'imprenditore avrebbero assicurato l'assunzione del personale segnalato dalla dirigente e l'ispettorato. Il collegio difensivo ha però offerto una convincente e provata lettura dei fatti e delle circostanze contestate, facendo emergere le stranità di Barbera e Donato, insieme all'azienda di sicurezza, dalle accuse mosse. Da qui il non luogo a procedere, come era stato richiesto anche dai PM. È emerso inoltre un presunto abuso costrittivo nei confronti di Donato e Barbera. Quest'ultimo diventa ora parte offesa nell'ambito del procedimento giudiziario in corso e annuncia azioni risarcitorie alla luce delle gravi ripercussioni che la vicenda ha causato alla sua vita professionale. Ho sempre agito nel massimo rispetto delle regole, ho avuto massima fiducia nella magistratura, che ha saputo ristabilire la verità dei fatti, spiega il consulente del lavoro.